Il Catania Football Club ha dato il via ufficiale alla nuova stagione calcistica con la presentazione del nuovo allenatore Luca Tabbiani. Per l'occasione il patron rossazzurro Ross Pelligre è tornato in città partecipando alla conferenza stampa che ha indicato gli obiettivi da raggiungere dopo il ritorno in Serie C. Si vuole fare ancora un salto di categoria, si tratta dell'avvio di un programma biennale per cercare di conquistare la cadetteria. Il futuro appare erosio alle falde dell'Etna. La probabilità infatti sta portando avanti un progetto attento non soltanto ai traguardi sportivi da raggiungere ma anche a quelli sociali e comunicativi coinvolgendo la città in un percorso di crescita generale. L'entusiasmo è presente, riflette quello che creeremo quest'anno insieme. Il mio staff, devo dire la verità, hanno avuto molte ferie quest'anno. I ragazzi hanno lavorato 20 ore al giorno, lavorando e viaggiando, compreso me, tra Italia e Australia continuamente. Comunque siamo molto emozionati, molto convinti che possiamo fare bene, non vediamo l'ora di iniziare. Di Luca Tabbiani la cosa che mi piace di più è che lui crede nel progetto. Abbiamo comunione di intenti riguardo il progetto che stiamo portando a Catania, è una common mission, quindi non vediamo l'ora di cominciare insieme sul campo.